è possibile e conveniente una convergenza a livello europeo nelle politiche previdenziali di welfare pensionistico allora io devo dire che questo è un tema a cui sono molto legata io credo che una delle cose che dovrà succedere nel futuro è una maggiore convergenza delle politiche di welfare in generale io credo due cose poi non mi dilungo perché questo sarebbe un tema di nuovo molto lungo, io credo che il welfare debba essere inteso in una forma più generale che non come l'abbiamo inteso noi che stava molto sulle pensioni e va bene ma le pensioni sono la parte finale della vita ahimè è così mentre la vita comincia alla nascita e se vogliamo welfare lì bisogna dare aiuto ai bambini che nascono nelle condizioni meno favorevoli queste sono l'uguaglianza delle opportunità è molto strettamente legata alle politiche di welfare perché lì possiamo dire che il welfare è copertura del rischio e per esempio il rischio di nascere in una famiglia povera in una famiglia emarginata è un rischio ma nessuno sceglie la famiglia in cui nascere allora tu devi concentrare come società i tuoi sforzi perché questi bambini abbiano almeno le facilitazioni intanto l'assistenza sanitaria deve essere gratuita che abbiano l'alimentazione corretta che abbiano la possibilità di frequentare un nido e quindi di avere magari al di fuori della famiglia ciò che la famiglia non riesce a dare e questo è importante continua poi si arriva all'età dell'istruzione e l'istruzione deve essere di nuovo favorire chi ha meno perché l'istruzione obbligatoria va benissimo ma poi bisogna incoraggiare gli altri cioè per esempio parlavo prima di questi ragazzi che ne studiano ne lavorano e che sono un grave problema del nostro e anche di altri paesi e quindi questo è parte del welfare perché aiuta queste persone a costruire il loro futuro poi ci sono tutti i rischi della disoccupazione e questo è welfare poi ci sono i rischi della insufficiente preparazione per l'età anziana e questo è welfare allora il welfare deve guardare tutto il percorso di vita e non solo la parte finale l'Europa deve dare diciamo così delle indicazioni e non solo preoccuparsi della sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici ma io credo che ci arriveremo voi avete sentito che ci sono proposte in Europa di un assegno di disoccupazione a livello europeo la garanzia giovani era già uno strumento europeo accanto a questo Next Generation EU che ha due direttrici principali l'ambiente e la digitalizzazione c'è però sotterraneo qualcosa che riguarda diversi elementi di welfare che oggi stanno ancora sotto l'area della sussidiarietà quindi stanno nella come dire nella competenza dei singoli paesi ma che attraverso vie indirette diventeranno sempre più ispirate a principi e a criteri europei in ogni caso è vero che tutte le riforme dei sistemi pensionistici degli ultimi anni in Europa degli ultimi decenni in Europa hanno seguito linee pressoché uguali dappertutto è aumentata l'età di pensionamento dappertutto è aumentata la correlazione tra i contributi versati e la pensione ricevuta dappertutto si è ugualizzato l'età di pensionamento delle donne a quella degli uomini dappertutto si è favorito con maggiore o minore successo l'integrazione pensionistica complementare attraverso i fondi pensione al sistema pubblico quindi un po' c'è già l'integrazione